Mamadou Canuté salterà le prossime due partite, l'esterno seneganese non prenderà parte la gara in programma sabato a Catanzaro, quindi niente sfida da ex per lui così come non ci sarà nel big match interno contro il Foggia. L'esterno bianco-verde è stato squalificato dopo l'espulsione patita nell'ultimo match interno contro la Virtus Franca Villa, terminato con il punteggio di 1-0 per gli ospiti. Si legge nel referto per avere al tredicesimo minuto del secondo tempo tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario Riccardo Idda, in quanto dopo essere stato spinto più volte da quest'ultimo, reagiva mettendogli le mani al collo senza stringere e successivamente spindorandolo con forza e facendolo cadere a terra. Nell'occasione l'avversario non riportava danni fisici e si rialzava dopo qualche secondo. Una brutta tegola per il tecnico bianco-verde Massimo Rastelli che tra i tanti problemi sarà anche privo di uno degli elementi maggiormente in forma in quest'ultimo periodo.